Certo, in Piemonte, come nel resto dell'Italia, un gruppo importante e significativo per la nostra economia e parliamo di circa 20.000 lavoratori, tra diretti e indiretti. Ieri c'è stato presentato un nuovo piano industriale dall'azienda che abbiamo ritenuto assolutamente ricevibile. Per noi il piano industriale rimane quello che con l'azienda e il governo che faceva garante di quel piano industriale. Abbiamo firmato circa un anno fa con quegli investimenti, con quella ambientalizzazione e anche ovviamente con quella produzione e quel numero di occupati. Non è possibile che dopo tutto quello che è successo sull'Ilva, dopo tutto questo dibattito, scudo penale sì, scudo penale no, il governo l'ha messo, introdotto, poi tolto, poi rintrodotto e poi definitivamente tolto. L'azienda aveva detto che avrebbe rispettato quel patto, non è possibile che dopo tutto quello che è avvenuto di fatto sul tavolo ci sono 6.300 esuberi, e cioè 6.300 lavoratori che diventano disoccupati e 6.300 famiglie che rimangono senza reddito. Le relazioni industriali. Ancora di più se sono triangolate anche attraverso l'intervento del governo, sono cose serie. Quindi il 10 ci sarà sciopero generale dei lavoratori del gruppo Ilva, verranno tutti con noi a Roma alla manifestazione confederale sulle crisi industriali che continuano ad aumentare, sono circa 160, molti presenti da due o tre anni se non di più sul tavolo del Ministero dello Sviluppo e non se ne risolve una. Il giudizio sul governo è articolato, sicuramente sulle crisi industriali, è difficile dire il governo di oggi perché in due o tre mesi, però purtroppo da tanto tanto tempo siamo continuamente all'anno zero. Si aggiungono crisi su quel tavolo, se ne riaprono anche di quelle che sembravano ormai in un percorso di soluzione, penso all'Ilva, e siamo a mettere a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro. E poi c'è la questione dello sbloccamento dei cantieri. Allora, lo sblocco dei cantieri significa mettere finalmente in circolo 85 miliardi bloccati lì da anni. Questi corrispondono a spanne a 450 mila posti di lavoro in un settore che durante la lunga crisi che abbiamo vissuto ne ha perso 800 mila di posti di lavoro. Allora, non è possibile continuare a tenere ferme quelle risorse in un paese che al contrario ha un bisogno infrastrutturale davvero forte. Noi dobbiamo collegare il sud col nord del nostro paese e tutta l'Italia con l'Europa. Pensiamo ad esempio alle vicissitudini della questione della TAV. Allora, tenere bloccati quei miliardi e non farli diventare infrastrutture e posti di lavoro è una cosa inaccettabile.